and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teacher show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world pronti a rinfrescarvi con la musica del deep teacher show benvenuti su radio carina e carina tv 697 del digitale terrestre sabato sera deep teacher show vuol dire house groove i migliori suoni del globo suonati per voi da lorenzo carbone toni e me da sottoscritto davide padolosi che è pronto a suonarvi per questa prima ora le migliori selezioni musicali lesson number one dj davide padolosi deep mixing show i'm surprised to see your suitcase at the door remember the good times don't you want some more it's not a perfect love but i've depended cause i believe is what god is changing we've got love to go to go wait it's not over between you and me it's not over i don't wanna i don't wanna be free it's not over it's not over you Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 . a tutti. 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 . . a tutti. 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 a tutti.